Domani, giovedì 11 ottobre, la Corte Sportiva d'Appello sarà chiamata a riformulare la sanzione nei confronti del Forosinone Calcio, per i fatti relativi alla finale play-off contro il Palermo. La scorsa settimana aveva chiesto la fissazione immediata dell'udienza, dopo che la sentenza di agosto del CONI diceva di inasprire la sanzione ai danni della società giallazzurra, ritenendo che nei dati riportati fosse stata sottovalutata la gravità dei fatti accaduti. Ci si aspetta dunque una penalizzazione in termini di punti in classifica per i sociari da scontare nella stagione corrente, pena che andrebbe ad aggiungersi alla sanzione già scontata di due turni di campionato giocate a porte chiuse in campo neutro. Il Forosinone non rischia la Serie A, ma la probabile penalizzazione sarebbe un altro duro colpo dopo una partenza in campionato decisamente rallentata.